Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Grande Fratello 2023, la VIP della televisione prende le sue difese. Nelle ultime ore il pubblico italiano ha assistito a continui colpi di scena e anche ad accesi confronti, proprio come quello avvenuto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Poi anche lo sfogo dell'Extemptation Island a Greta Rossetti. Insomma, la situazione in casa si accende e adesso anche la VIP rompe il silenzio sulla vicenda. Rita dalla chiesa contro Perla Vatiero. Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio. A me non interessa, ho la vita mia e sono serena. Ho le mie mancanze, sono due mesi, ti iniziano a colpire quando sei debole, ha ammesso Perla Vatiero parlando di quanto accaduto con Bea in compagnia di Greta Rossetti. Io non ho niente da fare, in qualche modo li devo passare questi due mesi, stuzzicami. Greta dal canto suo ha dato ragione a Perla. Ma sono tutti d'accordo con lei? Assolutamente no e a farsi sentire è stata Rita dalla chiesa, che ha condiviso sui social il suo pensiero a riguardo. Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al GF. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice, sono state le parole di Rita dalla chiesa che ha dunque preso una posizione a favore di Beatrice Luzzi. I fan si sono trovati d'accordo con il pensiero dell'ex conduttrice di Forum. Mi sento sotto una mitragliatrice. Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Ha portato qui dei modi da boss, sono state le parole di Bea espresse a riguardo dello scontro con Perla. Io non sono qui per fare la guerra. Il percorso è personale, a me non importa vincere. Ho 25 anni, devo crescere e migliorare. La replica dell'avatiero. Intanto, nelle scorse ore Stefano Miele è stato criticato per una frase detta a Greta in riferimento del suo ex fidanzato Mirko Brunetti, fino a qualche tempo fa anche lui concorrente del grande fratello. Tutto è nato da un confronto tra Greta e Perla e mentre le due parlavano si è intromesso dicendo, posso dire? È un po' patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell'amore col tuo ex, ha detto dopo aver sentito Greta spendere parole importanti per Mirko e Perla. No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica, la risposta di Greta, che poi è corsa in bagno a piangere, dopo che Stefano ha detto una frase che per la maggior parte del pubblico è stata goliardica ma che alla concorrente è sembrata volgare e pesante. Quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui Stefano mi ha detto, non è però lui te l'ha pucciato il biscotto, ha detto Greta. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l'alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c'è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare, ha detto ancora la concorrente del grande fratello. Durante la puntata Stefano ha chiesto scusa a Greta. Ho esagerato, sono stato poco elegante, ti chiedo scusa qui davanti a tutti. Faccio un passo indietro. La giovane lo ha perdonato ma Perla si è messa in mezzo per commentare così, troppe scuse, qua prima si fanno le cose e poi si chiede scusa. Ma. Parole che hanno fatto storcere il naso al pubblico, che ha ripostato il video in cui Stefano pronunciava la frase incriminata e la vera reazione di Perla, ovvero una risata. Per questo motivo il pubblico ha massacrato Lavatiero e l'ha accusata di voler creare solo dinamiche, visto che ora Mirko non c'è più e in effetti l'attenzione anche durante le dirette è decisamente scemata. Brava, non ci avevo fatto caso alla disperazione di Perla per la sua amica Greta. Ah ecco allora non avevo visto male. Quando Stefano ha detto del biscotto Perla ha riso poi ha preso la palla al balzo per fare il circo, scrive ancora un utente. E ancora, non l'avevo notata. Brava, ma infatti Palese si è preparata il discorso e delle risposte fatte per fare scena in puntata. Tristezza, ecco a voi la paladina della giustizia, falsa quanto i soldi del Monopoli, si legge a commento del video che ha smascherato Perla. Situazione veramente assurda da parte della Luzzi intanto. Ho paura, penso mi voglia uccidere. Beatrice Luzzi sciocca il grande fratello. La frase che lascia tutti senza fiato. È succedo durante l'ultima diretta del reality show di Canale 5. Tutto è iniziato da questo terribile confronto tra Bea e Perla Vatiero. La questione era l'accusa rivolta a Perla di essere egoista e di pensare solo a se stessa. Non sembra naturale per lei pensare alla comunità o lavare i piatti quando sono sporchi. Perla chiaramente ha respinto queste affermazioni, apparentemente dimenticando che erano le stesse parole usate dal suo fidanzato, Mirko Brunetti, per descriverla durante Temptation Island. Perla fa l'1% di quello che la mamma fa in una settimana. Ma a livello di approccio mentale alle cose. Questo perché ha avuto i genitori che erano così, che l'hanno sempre invocata con il cucchiaino, l'hanno viziata, capito? Le cose poi non si sono placate e piano piano la tensione tra le due è aumentata. Ed è proprio durante un fuorionda che Beatrice Luzzi, parlando con Anita Olivieri e Rosy Chin, ha fatto una dichiarazione davvero davvero forte. Ho l'impressione che Perla, NDR, mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura. Le sue parole chiaramente hanno fatto solo sorridere, ma anche molto arrabbiare sia dentro la casa che il pubblico. E c'è da dire poi che Signorini decide di scherzarci su e dice a Perla, ti chiami Vatiero di cognome? Ma io con questo nome Perla Vatiero ci faccio dieci puntate di Gomorra. In ogni caso, l'atteggiamento di Perla Vatiero è stato criticato da molti, sia dentro che fuori dalla casa del grande fratello. Durante l'episodio di ieri sera sono stati trasmessi dei filmati in cui la geffina, parlando di Stefano, ha detto, lo rovino. Gli do due settimane di vita qui dentro. Parole simili a quelle che l'avatiero ha riservato a Beatrice, quella la liquido subito. Vuole una questione con me? Che venga, io sono pronta. Insomma, Perla si stascavano la fossa da sola e si è messa contro la protagonista e probabile vincitrice di questa edizione. Mossa furba? E infine, per il grande fratello 2023, arriva la decisione. Il programma di successo di Alfonso Signorini, come forse è noto ai più, aveva messo in calendario un doppio appuntamento con il ritorno anche del giovedì. Nel giro di poco tempo, sui social, alcuni utenti hanno ben presto fatto sentire la propria voce. Poi, nelle ultime ore, la decisione degli autori della trasmissione. Tutti i dettagli della vicenda. Grande fratello e Doc 3, è sfida? Per chi se la fosse persa, si parte dalla polemica social scoppiata di recente in merito al reality show di Alfonso Signorini, spero che tutti i fan non solo di Beatrice ma della onestà intellettuale, vi boicottino martedì in modo che lo share vada ancora più giù. Basta vi jaccate, è stato uno dei tanti commenti dei fan. E adesso cosa sta succedendo? Come accennato, era stato fatto riferimento a un appuntamento doppio, poi però ritratto nel corso della messa in onda del 23 gennaio. Alfonso Signorini ha infatti annunciato che la puntata di giovedì 25 gennaio sarebbe saltata. Precedenza data prima alla finale di Supercoppa, poi l'annuncio dell'ennesimo cambiamento. Il conduttore del reality ha infatti annunciato la decisione di mandare in onda la trasmissione lunedì 29 gennaio. E cosa si nasconde dietro questo cambiamento di rotta? Le ipotesi circolano alla velocità della luce. Grande fratello e Doc 3, è sfida? Decisamente no, infatti la prima ipotesi in merito al cambiamento della messa in onda potrebbe trovare un nesso con la fiction di successo con protagonista Luca Argentero. La decisione dei vertici Mediaset potrebbe aver evitato appunto una sfida aperta tra i due, posto che Doc 3 ha dato appuntamento al pubblico giovedì su Rai 1. Insomma, un passo indietro per evitare un flop? D'altronde il record toccato da Doc 3 nel corso della prima puntata si è visto. 5 milioni di spettatori con uno share del 26.9%. Troppo anche per il grande fratello di Alfonso Signorini?